Sono 24 le persone destinatarie di un'ordinanza di applicazione di misure cautelari ritenute gravemente indiziate a vario titolo, di associazione per delinquere e finalizzata la vendita e messe in circolazione di banconote neurocontrafatte. L'ordinanza, si legge nella nota dell'arma, è in positiva dell'arresto e traduzione in carcere per 9 persone, dell'arresto e sottoposizione a regime degli arresti domiciliari per 10 persone, nonché del divieto di dimora per 5 persone. Nello specifico, il GIP ha condiviso la complessa piattaforma probatoria compendiata nella richiesta della Procura della Repubblica. La documentazione contenuta nel fascicolo d'indagine ha consentito al GIP di ritenere, assistita da gravi indizi, l'esistenza e l'operatività di un'organizzazione criminale dedita alla vendita e messa in circolazione di valuta in euro contraffatta. In questo senso, la principale fonte di prove è costituita dalle intercettazioni, nonché dagli ampi riscontri documentati dai carabinieri operanti. L'indagine ha consentito in poco più di un anno la disarticolazione di una strutturata organizzazione criminale operante nel quartiere vasto di Napoli, dedita all'acquisto e alla successiva vendita di valuta in euro contraffatta, fin anche all'estero, con correlate transazioni di compravendita operate prevalentemente all'interno di un basso, per il quale l'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro, che rispettava orari di apertura e chiusura prestabiliti al pari di un ordinario esercizio commerciale, aprendo ogni giorno agli acquirenti dalle 12 alle 19.30 circa, con esclusione delle domeniche e dei giorni festivi.